Io credo molto nell'Unione, credo molto che il nostro Paese abbia bisogno di pensieri che volgano all'unità. Questo clima invece di disgregazione temo che sia molto pericoloso, questo populismo imperante credo che sia molto pericoloso soprattutto per tutte quelle persone che non hanno la possibilità di far sentire la propria voce. Ed è per questo che noi oggi siamo qui, come rappresentanza prima di tutto di cittadini italiani che sentono molto vicino il problema della comunità internazionale che sono in pericolo in questo momento e per gridare il nostro bisogno di unità, perché crediamo nell'unità.